Le chiedo subito un'impressione rispetto alle divisioni del nostro pubblico, mentre saluto via Skype anche Patrizio Gonella che è Presidente Cilde. Tra poco raccontiamo anche quella guida dedicata allo solidarietà in mare che è stata stilata proprio da voi. Centinaio, parto da lei. I telespettatori hanno sempre ragione, come gli elettori, e di conseguenza non do contro a quello che dicono. Io dico molto onestamente che faccio parte di quel 29% che dice che l'Europa ha ragione, per il semplice motivo che i piani che l'Italia ha messo in piedi in tutti questi anni per quanto riguarda l'accoglienza e il contrasto all'immigrazione, o perlomeno all'immigrazione clandestina, sono stati piani fallimentari sotto tutti i punti di vista. L'Europa l'ha detto molto chiaramente che non si fida di quelle che sono le proposte che vengono portate avanti dal nostro paese, non si fida l'Europa, ma non si fidano soprattutto i paesi che compongono l'Europa. E abbiamo sentito proprio prima quello che sta facendo l'Austria e quello che ha detto e quello che ha minacciato l'Austria che è a ridosso del nostro paese. Come si può pensare di fare un documento in modo che queste persone girino per l'Europa? È impensabile, è impensabile ed è l'ennesima proposta di un governo che a questo punto, di un governo, di una maggioranza, di un paese, di un sistema paese al collasso, che non sa più che pesci pigliare, che ha sbagliato sin dall'inizio tutta l'accoglienza e tutte le proposte che sono state fatte e che ahimè non è più credibile a livello internazionale. Senatore Centinaio, di fronte appunto a chi ci ricorda in punta di diritto la necessaria solidarietà in mare per chi è in pericolo di vita, come risponde lei? Cioè come si può poi pensare alla divisione fra salviamo quelli che fuggono dalle guerre, i profughi e non salviamo quelli che fuggono da situazioni di carestia, di povertà, di cosiddetti migranti economici? No, 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 però glielo chiedo, visto che non l'ha detto lei, ma insomma è un ritornello che è stato ripetuto più volte anche dallo stesso presidente francese Macron. Non sul salvataggio ma sull'accoglienza. Io però leggero la domanda, la riflessione. Che sono due cose diverse, nel senso che il salvataggio, l'ha ricordato, è stato appena ricordato, il salvataggio deve essere fatto per tutti e deve essere fatto da tutti. E quindi se c'è un'imbarcazione che lancia un SOS bisogna salvarli, bisogna salvarli assolutamente, indipendentemente che siano migranti economici o persone che scappano da una guerra. L'abbiamo detto in più di un'occasione e questo è, diventa il nocciolo della situazione. Li si salva, li si porta nel nostro paese, li si aiuta, li si identifica velocemente, velocemente, non con tempi biblici come sta facendo l'Italia. E nel momento in cui li si è identificati e si è capito da dove queste persone arrivano, chi scappa da una guerra rimane nel nostro paese, chi viene per motivi economici viene riportato da dove è partito. Punto. Mi dice, senatore, appunto la sua impressione rispetto anche all'ONG che protestano su quel codice di condotta che abbiamo raccontato anche le modalità per il loro comportamento in mare delle organizzazioni non governative. Insomma, questo arriva a dire un po' la linea dura che è stato detto anche da Marco Minniti più volte per chi non firmerà, per chi non ci starà, per chi non accetterà appunto di essere sottoposto a queste condizioni. Io ho premesso che spero che Minniti passi dalle parole ai fatti e questo è il primo auspicio. Nel momento in cui le ONG protestano la domanda che ci facciamo allora è ma come avete lavorato in tutti questi mesi o in tutti questi anni? Ma come mai sappiamo benissimo che le navi delle ONG arrivavano direttamente in acque territoriali libiche? Come mai sappiamo che le navi delle ONG spesso chiudevano il radar per essere identificate, andavano a salvare queste persone in zone dove non potevano andare per poi essere ridentificate successivamente? Questo non lo dice la Lega, non lo dice Gianmarco Centinaio. E di conseguenza il fatto che le ONG abbiano lavorato in un regime un po' troppo libertario è logico che nel momento in cui vengono messe delle regole forse c'è qualcuno che queste regole in passato le ha infrante e di conseguenza non vuole rispettare le regole. Riteniamo che le regole debbano essere rispettate anche dalle ONG. Perché dice, speriamo che passi dalle parole ai fatti, centinaio ai fatti, gli affanti, perché in Libia c'è stato, ha provato a cercare un accordo appunto con i capi delle tribù locali che vengono identificati come dei sindaci e anche con Serrage. Anche perché questo è un obiettivo, lo ricordiamo ai telespettatori, anche condiviso non poco da Bruxelles, dall'Europa, il tentativo è quello di provare a stabilizzare un paese caotico e ancora molto violento come la Libia. In Libia non ci doveva andare Marco Minniti, in Libia ci doveva andare l'Europa, non ci doveva andare l'Italia, perché l'Italia non ha la forza neanche a livello diplomatico per poter andare a risolvere un problema importantissimo. E forse neanche l'Europa ci doveva andare l'ONU a risolvere un problema di questo tipo. Perché dalle parole ai fatti? Semplicemente perché il decreto Minniti, il decreto quello sull'immigrazione, a nostro parere, anche se noi l'abbiamo visto in modo comunque positivo, a nostro parere rimane in questo momento un po' sulla carta. Perché diciamo così? Perché se l'Europa continua a non fidarsi di noi, nonostante il decreto Minniti, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nel decreto Minniti. E anche in questo caso non lo dice la Lega, ma lo sta dicendo l'Europa, che dovrebbe essere quella che ci dovrebbe aiutare a risolvere questo problema che abbiamo creato noi. Io lo ricordo sempre, il problema in Italia non l'ha creato l'Europa una volta tanto, l'ha creato l'Italia. Anche questo è l'evidente segnale che comunque questa forma di accoglienza non sta funzionando. Io poi mi sembra che i colleghi del Partito Democratico si siano svegliati da un coma profondo degli ultimi quattro anni. Per il semplice motivo che quando segnalavamo al Ministro degli Interni, che è vero che Alfano non è del PD, ma faceva parte di un governo col PD, e quindi segnalavamo al Ministro degli Interni Alfano che c'erano delle situazioni di sproporzione causate dai prefetti, e i prefetti non sono eletti dai cittadini, ma sono la lunga mano del Ministero degli Interni sui territori, non ci venivano date risposte e anzi molto spesso venivamo denigrati. Non si può pensare di prendere paesini da 50 o 100 abitanti e mettergli degli alberghi con 50 o 100 profughi. È logico che si creano delle situazioni di disagio, ma questi sono almeno quattro anni che lo stiamo dicendo. Se si sono svegliati adesso, bene, però vogliamo capire qual è la soluzione. Però le chiedo allora anche a lei, come si possono fermare le partenze dalla Libia, se si possono fermare paese nel caos, nel quale anche gli interlocutori sono difficili da ciuffare in qualche modo, visto che appunto c'è stato un dialogo con i capi tribù, con i sindaci, un dialogo con Serraggio, ma forse non basta. Le chiedo allora, lei cosa direbbe? Come si risolve il problema da lì? Sicuramente, come ho detto prima, il problema non lo risolve Minniti. Non perché Minniti non è bravo, noi abbiamo sempre detto che Minniti sicuramente all'interno di questo governo forse è il miglior ministro che ci sia all'interno del governo Gentiloni e di conseguenza sotto quel punto di vista lì non viene fatta una critica direttamente al ministro Minniti. Ma diciamo che l'interlocuzione deve essere fatta tra l'Europa o tra le Nazioni Unite e la Libia e quindi cercare di iniziare a fare un ragionamento a livello internazionale. Non può essere l'Italia da sola in queste condizioni. Se ci fosse uno stato democratico, come per esempio pensiamo al Marocco, gli accordi tra il Marocco e la Spagna sono stati accordi bilaterali tra Marocco e Spagna, avevano risolto la questione. È normale che con una situazione come c'è quella in Libia l'Italia non è in grado da sola di risolvere questo problema e quindi andare in modo serio a chiedere aiuto altrove, non come è stato fatto fino adesso. E poi noi lo continueremo a dire in eterno e andremo avanti, e l'ho detto prima ma andrò avanti a dirlo, nel momento in cui non c'è un accordo serio con la Libia e non si riesce ad avere un accordo serio con la Libia, si salvano queste persone ma poi se non hanno diritto a rimanere nel nostro paese si rimandano da dove sono arrivati, cioè dai paesi di origine, che non è la Libia ma sono i paesi di origine. Se vengono in Italia solo per motivi economici possono tornare tranquillamente al loro paese.